E' il Presidente del Veneto il Governatore con il maggior consenso d'Italia, salito al 60% l'analisi del sociologo Filippi. In calo invece il gradimento del sindaco di Treviso, scivolato al 92esimo posto, lui tira dritto, avanti per la nostra strada. In arrivo a Volpago non un centro di accoglienza per i migranti, ma una struttura di identificazione sotto stretta sorveglianza. A Resana è esposto i rimossi tra estricioni contro l'arrivo di 15 migranti, ma ai veri profughi la gente è pronta ad aprire le porte. Ricoverato in fin di vita e in netto miglioramento il 47enne colpito dalla meningite e soddisfazione dell'azienda sanitaria. Assalto fallito al Bancomat del credito portendonese di Porto Buffolè, ma l'apparecchio ora fuori uso era l'unico del paese. Dopo i sindacati e la Camera di Commercio anche gli industriali puntano alla fusione tra Treviso e Belluno. Pozza, inevitabile. A Revina è lo spettacolo dei laghi ghiacciati, la bellezza che nasconde un insidio, un'ordinanza del sindaco vieta di camminarci sopra. E buonasera da Treviso, apriamo subito con la classifica del sole 24 ore che pone al primo posto tra i presidenti di regione di tutta Italia il governatore del Veneto Luca Zaia. Con un gradimento che è salito rispetto a quando è stato eletto, un paio di anni fa. 60% di gradimento, quindi 6 veneti su 10 lo voterebbero oggi. Inevitabile che con questi dati la Lega non pensi già a candidarlo come premier. Presidente di regione con il maggior consenso d'Italia. È del trevigiano Luca Zaia il primato nella classifica dei governatori rilevata da un'agenzia per conto del sole 24 ore quotidiano di Confindustria. 6 veneti su 10 sono disposti a votarlo se si dovesse andare alle urne, con un aumento di quasi 10 punti rispetto a due anni fa, quando Zaia è stato confermato alla guida della regione. Dito di lui Enrico Rossi, governatore della Toscana, con 9 punti in più rispetto al giorno dell'elezione, mentre al terzo posto, in grande risalita, l'ex ministro dell'interno ed ora presidente della Lombardia, Roberto Maroni, che guadagna il consenso di 11 cittadini in più rispetto ai quasi 43 che l'hanno votato, portando il suo gradimento al 54% dei lombardi. Guardando la classifica nel suo complesso, da notare come nelle tre regioni guidate dal centro-destra cresca il gradimento per l'operato dei governatori, mentre nella stragrande maggioranza dei presidenti di centro-sinistra ci siano delle cadute anche importanti. Una tra queste è la friulana Deborah Serachiani, che perde quasi 6 punti e mezzo, con un solo cittadino su tre disposto a votarla. E se Zaia è il primo in classifica, ultimo è Rosario Crocetta, con 30 punti in meno rispetto ai 60 del Veneto, nonostante la Sicilia sia una regione a statuto speciale. Un dato non secondario, quello della gestione delle risorse e l'equilibrio dei bilanci, che a quanto pare va al di là anche del federalismo. Per chi studia le nostre comunità, uno dei motivi del successo di Zaia. Il Veneto ha molti punti di eccellenza, non dimentichiamoci però che il Veneto ha anche avuto scivololi notevoli, le vedo il Mose. Certamente vale il discorso sanità, ma io credo che dal punto di vista emotivo, e la nostra è un'epoca molto light e molto emotiva, ha giocato l'umore o la pulsione autonomistica e quel sentimento diffuso che lui ha interpretato relativo alla gestione o all'accoglienza dei profughi. Con questi dati cosa consiglia il governatore del Veneto? Beh, direi che un buon gioco, una buona squadra non si cambia e casomai comunque rimangono sempre sfide notevoli per una regione grande e di frontiera come quella del Veneto. Chi sale e chi scende, se da una parte Luca Zaia è il primo in classifica, invece il sindaco di Treviso Giovanni Manildo è al 92esimo posto su 104 capoluoghi d'Italia. È un tema che però fa un po' discutere, ma i trevigiani dicono anche la loro. Consenso dei cittadini in calo per il sindaco del capoluogo della marca, a un anno e mezzo dal ritorno alle urne, Giovanni Manildo si assesta, secondo la classifica del gradimento dei sindaci italiani pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24 ore, in 92esima posizione, ultimo dei sindaci dei capoluoghi veneti, fatto salvo che il comune di Padova è commissariato, con un meno 7,5% di favori rispetto al momento della sua elezione, dal 55,5 al 48%. In questo momento sarebbe con lui meno della metà dei trevigiani. Per me sì, è realistico. Purtroppo abbiamo un'amministrazione così non è che la cittadinanza sia contenta. Ha bocciato. Insomma dai, rimandato, non bocciato, rimandato. Secondo me in città ci sono tante cose che non vanno, specialmente il viale Montegrappa, per conto mio è rovinato. È un po' l'Italia il ripasso, quindi magari in sindaci sono soltanto la ciliegina sulla torta. Ultimamente ci sono un po' di pecche, però tutto sommato non si può dargli tutta la colpa a lui. Quindi non si merita questa 92esima posizione? No, non sono d'accordo. Per quanto riguarda la cultura, l'arte, mi sembra che in questo momento sia significativo il risultato invece per questa città. Magari ci sono altre cose che potrebbero essere migliorate, soprattutto i quartieri periferici. Potrebbe essere fatto un lavoro più interessante anche di rivisitazione. Ascoltiamo tutti ma andiamo avanti per la nostra strada e il commento è arrivato nel pomeriggio dal diretto interessato. Quello interpellato è un campione di 600 persone, convinceremo anche loro. All'appuntamento con le urne però non manca molto e Manildo lo sa. Saremo ancora più vicini ai cittadini, al mercato, nei luoghi della città dove ci si incontra, promette. Per farlo c'è bisogno dell'aiuto di tutti, di tutta la squadra di governo, che proprio perché eterogenea è rappresentativa delle tante anime di Treviso. Inevitabile pensare che anche per Giovanni Manildo molto abbia pesato il tema dei migranti. Il tema dei migranti è stato anche alla ribalta dell'incontro di questa mattina a Sveglia Veneti con il senatore Franco Conte di Resana e da lui è arrivata una notizia per quanto riguarda l'ex polveriera del Montello. Sentite che cosa ci ha detto. Da ex polveriera centro di permanenza e rimpatrio. Sarebbe questo il futuro dello storico sito militare del Montello dopo un'iniziale destinazione a centro di accoglienza. A confermarlo oggi a Sveglia Veneti il senatore del nuovo centro-destra Franco Conte. Allora, all'ex polveriera del Montello diventare un CPR? Dovrebbe essere un centro di raccolta temporaneo in attesa di individuare effettivamente lo stato delle persone che vengono ospitate e dopo di assumere le decisioni conseguenti. Quindi ospitare chi ha diritto e gli altri no. Ma allora, senatore, vuol dire che la polveriera ospiterà queste persone? È nei disegni della prefettura di poterla utilizzare con un numero limitato. E l'ex polveriera sarebbe nei disegni in approvazione mercoledì nel prossimo Consiglio dei Ministri del nuovo responsabile degli interni minniti che vuole rivoluzionare tutto il sistema di gestione dei migranti. Ad iniziare da questi centri dove saranno destinati i migranti sorvegliati dall'esercito finché non saranno definiti profughi o clandestini. Per loro, tra l'altro, niente carta d'identità ma un documento provvisorio con il termine sedicente. Ideale quindi la struttura di sorveglianza della polveriera che potrebbe contenere il centinaio di migranti stabiliti come tetto massimo per singola struttura. Una volta ottenuto lo status di profughi, gli stranieri verrebbero trasferiti nelle strutture di accoglienza altrimenti i detti Sprar, gestiti da comuni e cooperative come si prospetta per Resana. Io mi sono assunto la responsabilità a fronte della possibilità che a Resana arrivasse la cosiddetta Tendopoli perché questa era la situazione di partenza, di andare dal prefetto e chiedere al prefetto che non venga realizzata la Tendopoli. Naturalmente è nata una concezione diversa che è quella di realizzare i cosiddetti centri Sprar che sono delle situazioni totalmente diverse rispetto ai centri di accoglienza ospitano i profughi veri con costi che non sono a carico del Comune ma sono a carico dello Stato con la possibilità di impiegare i profughi in attività lavorative a favore del Comune. In altre realtà diverse dal Veneto questi centri funzionano e bene. E noi siamo andati a Resana a sentire cosa ne pensano i cittadini di questa possibilità. Il mondo politico spaccato, la tensione che in paese sale con gli striscioni affissi nel fine settimana e immediatamente rimossi a due passi dal municipio, a Castelminio e a San Marco. Qualcuno con lo spray nero ha scritto i clandestini a Resana sono la mafia di Stato. Immediato il collegamento con lo slogan usato più volte dall'ex sindaco Loris Mazzorato ma lui nega di esserne l'autore. Non sono stato io ma qualcuno che condivide quanto affermo da anni, dice. Secondo l'ex primo cittadino nel Comune si stanno preparando eclatanti manifestazioni di protesta contro l'accoglienza di 15 migranti già riconosciuti come profughi a cui il commissario prefettizio ha dato disponibilità. Bisogna fare altri sistemi. In paese inutile negarlo c'è diffidenza ma di fronte all'ipotesi di accogliere un numero ristretto di rifugiati già identificati con certezza la maggior parte si dice d'accordo. Se sono 20 proviamo ad accoglierli. L'importante è che siano veramente profughi. Per me va bene, sono filtrati, voglio dire se sono in una situazione di bisogno perché no. E l'unica cosa, cosa riusciamo ad offrirgli? Penso sia corretto perché il resto è una situazione che ci siamo venuti a trovare con questa globalizzazione e questa trasformazione in atto e quindi una qualche soluzione bisogna trovarla. Sono profughi che hanno veramente bisogno, non ho nulla in contrario. Mi auguro che hanno una sistemazione, che gli diano da mangiare, da dormire decentemente però non come si vede. A me non danno fastidio insomma, anche perché se vogliamo essere cristiani bisogna accoglierli in qualche maniera. L'unica cosa che non piace a me è che sono abbandonati a se stessi, questo non va bene. E quando invece i migranti eravamo noi, ecco, ieri se ne è parlato a Dolmi. Benedico, sono abbandonati come questa, perché credo c'è bisogno della voce alternativa. Le voce alternative al pensiero corrente sui migranti, quelle che si sono sentite ieri pomeriggio a Dolmi, nell'incontro tra esperienze di questa comunità che ha voluto capire come un'integrazione nell'accoglienza sia possibile. Alternativa al pensiero comune su esodo e sbarchi, che nelle nostre comunità si traduce anche nello striscione della manifestazione all'ex polveriera, che il parroco ha commentato nei social con questi risultati. Per carità potevo anche aspettarmelo, tra le decine e le decine di commenti che sono intornati, alcuni rondavano violenza in una maniera, come posso dire, fuori misura, nel senso che non si stava proprio. Un pomeriggio condiviso, quello nell'oratorio lungo la callata, proprio per rispondere ad una violenza, molte volte specchio della paura per l'altro, la stessa che incontravano oltre un secolo fa i nostri migranti. Nel 1913, 870 mila italiani partono, vanno in Belgio, vanno in Germania, vanno in Francia. Chi di noi non ha un parente? Che partito? Ecco il punto di contatto tra noi ieri e loro oggi, con la prospettiva di un comune domani, anche quando, come per la piccola Fatima, si torna con la famiglia al paese natio. Fatima scrive a Donetti, ciao Donetti, mi mancate tantissimo, anche se non lo dico a nessuno, ma voglio venire veramente a tutti, se per la mia famiglia. 15 anni, marocchina, cresciuta qui, in un'altra fede, ha trovato la porta aperta, ha trovato il basket, ha trovato gli amici, ha trovato la stanza. Ecco io credo che questo sia il mondo migliore che dobbiamo costruire. E adesso proseguiamo con la cronaca, perché ci sono delle novità positive per quanto riguarda l'infezione da meningococco. Importante miglioramento delle condizioni cliniche del 47enne di Maserada, ricoverato al caffoncello di Treviso alla fine di dicembre, perché colpito da meningite da meningococco di tipo C. Rispetto al quadro gravissimo dei primi giorni, in cui si era temuto per la sua vita, dall'US2 fanno sapere che il paziente respira già autonomamente e si prevede che tra un paio di giorni potrà lasciare una terapia intensiva per essere trasferito in un reparto di degenza. Grande soddisfazione da parte del direttore generale Francesco Benazzi per il risultato che l'equipe della rianimazione è riuscita a raggiungere. Anche il 64enne, affetto da meningite da pneumococco, è notevolmente migliorato ed è già stato trasferito nei giorni scorsi in reparto di degenza. E c'è stato un assalto al Bancomat, anzi all'unico Bancomat di Porto Bufolè. Bancomat della banca di credito pordenonese di via provinciale a Porto Bufolè, assaltato dai ladri alle 4 di stamattina. Avevano già forzato lo sportellino dell'erogatore delle banconote per infilarvi l'esplosivo quando è scattato l'allarme. Sapendo che i carabinieri sarebbero arrivati in pochi minuti, hanno deciso di dileguarsi. È un Bancomat di ultima generazione e video sorvegliato non solo dalla banca, ma Porto Bufolè ha una serie di telecamere, quindi i rapinatori sono stati ripresi e adesso i carabinieri faranno le proprie indagini e speriamo riescono ad acciuffare i malviventi. Installato da solo un mese, il Bancomat fuori uso è già di per sé un grosso danno per la piccola comunità di Porto Bufolè. Era l'unico punto di prelievo contanti dell'intero territorio comunale. Da più di un anno, dopo la chiusura dello sportello Bancomat e addirittura della banca che avevamo l'unicredit banca qui a Porto Bufolè, mancava questo servizio essenziale per Porto Bufolè visto il flusso di turisti, soprattutto nella seconda domenica del mese e nelle varie manifestazioni che facciamo a Porto Bufolè. C'è un diritto di andare a Prata oppure andare giù verso Oderzo. E adesso invece proseguiamo perché c'è stato un incendio a Codonier. Un incendio ha devastato alle prime ore di questa mattina un'abitazione fortunatamente disabitata in via Coada a Codonier, conosciuta come Casa Andretta, essendo appartenuta tra gli altri anche alla famiglia dell'ex sindaco Lorena Andretta, attuale segretario provinciale del PD. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 6.40. Il lavoro, spiegano gli uomini del 115, si è presentato subito complesso. Sul posto hanno lavorato tre mezzi di Conegliano che dopo aver spento l'incendio hanno proseguito per l'intera mattinata per mettere in sicurezza tutta l'area. Trattandosi di un'abitazione disabitata, le cause del rogo sono in corso di accertamento e restano tuttora ignote. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell'Enel. Perquisizioni del Coneglianese. L'arresto a moto di vigenza di un 24enne originario di Cassino in provincia di Frosinone. L'esito di un'operazione condotta proprio dai carabinieri di Cassino, su mandato della locale procura, si erano incaricati di eseguire tra Frosinone, Torino-Napoli e Conegliano. Sono 19 le ordinanze di custodia a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili e a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre naturalmente anche all'attenzione illegale di armi comuni da sparo. Antonio Di Ponio è stato trovato in possesso di sei piante marijuana, semi bilancine di precisione e tutto l'occorrente per coltivare dello stupefacente dall'arresto a Conegliano. Doppio lutto invece alla Comavit, l'azienda di Vazzola, in cui martedì scorso ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro una delle titolari, la 52enne Emanuele Bietzer, un 56enne di Tezze, perito elettrotecnico, già collaboratore dell'azienda, di cui aveva firmato la consulenza sulla sicurezza, ha dato un gesto estremo nella sua abitazione a Borgo Cristo, sul posto i paramedici da 118 i Carabinieri che ora indagano sull'episodio. E adesso cambiamo pagina perché Belluno è sempre più vicina alla marca, dopo i sindacati e la Camera di Commercio ci stanno pensando anche gli industriali. Belluno è sempre più vicina alla marca, la provincia delle Dolomiti si lega sempre di più a doppio filo con quella del Sile, attraverso l'asse comune del Piave. Infatti dopo i sindacati, la Camera di Commercio, ora anche gli industriali stanno studiando la fusione tra organizzazioni territoriali. Un percorso quasi obbligato per il Presidente Pozza, che da ex rappresentante della piccola impresa artigiana ed ora capo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, non esita a pronosticare numerose altre aggregazioni. Il sistema associativo direi che sta soffrendo della crisi, come soffrono le imprese ovviamente, perciò anche il sistema associativo sta cercando di dare un servizio alternativo, un servizio di qualità ai propri associati e questo lo si è visto ad esempio nell'assemblea diffusa che ci sono state nel territorio da parte di un'industria, ma poi le assemblee unitarie di Confindustria Vicenza, di Confindustria Venezia e di Confindustria Treviso, perciò Belluno che ha un percorso ormai consolidato nelle aggregazioni tra associazioni e mondo sindacale sta pensando a questo. Io la vedo in maniera positiva. Aggregazioni tra territori e in questi territori anche tra grandi imprese. Tra l'altro oggi vediamo che c'è anche la fusione tra il più grande operatore di occhiali nel mondo, la Luxottica, con la francese, con la casa francese e di conseguenza un altro gruppo che si aggrega e che dà a questa realtà di Belluno una forte visibilità nel mondo, ma una forte potenzialità economica indubbiamente che avrà delle ricadute credo positive. C'è l'allerta meteo per vento forte prevista almeno fino a mercoledì mattina per quanto riguarda i nostri territori, mentre le temperature rimarranno molto basse ma non c'è pericolo di nevicate, questo almeno stando al dispaccio che è stato emesso oggi dalla Regione. Quindi attenzione al vento forte nelle prossime ore e soprattutto alle possibili strade ghiacciate. A proposito di strade ghiacciate, anzi di ghiaccio, parliamo di un fenomeno quanto meno particolare nella sua bellezza che capita a Revine. Attenzione perché dietro alla bellezza c'è anche molto pericolo. L'inverno che si mostra nella sua parte migliore, la bellezza del freddo intenso, il lago ghiacciato che diventa suggestione per i residenti e attrazione da andare a vedere con i propri occhi per chi viene da fuori. A Revine lo spettacolo che il gelo prolungato offre, immortalato da scatti e video diffusi sui social, può trasformarsi anche in un'insidia. Non a caso, dopo il ragazzino che ha rischiato la vita domenica scorsa allo stretto, con il ghiaccio che ha ceduto sotto i suoi piedi, il sindaco Michela Coan ha emesso un'ordinanza che vieta di passeggiare o addirittura pattinare sulla superficie dello specchio d'acqua. Avevamo più abituati negli ultimi anni a vedere il ghiaccio sul lago, che è un panorama davvero particolarmente bello e suggestivo, però può essere anche pericoloso. Per questo motivo a scopo preventivo abbiamo deciso di fare un'ordinanza, abbiamo chiesto ai vigili di prepararla per evitare che magari proprio sulla spinta di questo paesaggio così invitante a qualcuno venisse in mente di entrare o a camminare o anche a pattinare. Ma non poterci passare non significa non approfittare della natura che si mostra in tutta la sua meraviglia. Invito tutti a approfittare in questo momento di fare la passeggiata intorno ai laghi dove potranno ammirare proprio questa natura vergine, questo paesaggio anche particolare che non vedranno in tutto il periodo dell'anno con questo lago, con queste sfumature e anche perché stiamo facendo degli interventi di valorizzazione grazie a un contributo regionale di 450 mila euro, noi e il comune di Tarzo insieme, proprio per ultimare i sentieri intorno ai laghi. Ammirare il paesaggio in tutta sicurezza e riempirsi gli occhi di uno spettacolo, quello del lago ghiacciato, a cui non capita spesso di poter assistere. E invece un altro successo per un'altra visita, un'altra visita turistica particolare, quella del fine settimana al Palazzo di Trecento. Sapete che è stato aperto per la prima volta, vedete le immagini dei primi visitatori, è stato aperto ai turisti sabato pomeriggio e poi domenica, quasi un centinaio chi ha versato i 5 euro per potersi ammirare, guardate la bellezza del Salone di Trecento dove appunto si svolge il Consiglio Comunale, carico di storia e particolarissimo per chi non conosce bene la città, quindi tanti turisti che sono venuti prima a vedere la mostra a Santa Caterina e poi hanno approfittato proprio per vedere questo Salone. Tra l'altro questa mattina c'è stata la prima apertura per una classe, per una lezione di educazione civica con grande soddisfazione del Presidente del Consiglio Comunale Franco Rosi che appunto ha tenuto una simulazione del Consiglio Comunale agli studenti come lezione di educazione civica per spiegare come funziona la democrazia nel comune di Treviso. Altra notizia sempre di Treviso, lo leggo in questo momento, ci sono quattro appuntamenti di Treviso Urspicta, ovvero un'iniziativa per visitare la città con l'ufficio turistico e l'UMPLI, proprio per chi vuole conoscere un po' di più della nostra bella Treviso. E con questo siamo alle 19.36, velocemente vediamo cosa c'è questa sera nella programmazione di Rete Veneta, alle 21.05 c'è Iceberg, argomenti 5 stelle, troppi galli, Roma affonda, capitale a Milano, si andrà a votare sui voucher, cosa sono? Tra gli ospiti Marco Cappato del Partito Radicale, Stefano Zamponi avvocato, Alessandro Corbetta della Lega Nord e Marco Bastetti di Forza Italia. Con questo è tutto da Treviso dalla marca, io mi congedo da voi, lascio la linea al meter dove ci vediamo domani, 8.10 svegli a Veneti, non mancate, ci sarà il consigliere regionale Riccardo Barbisan. Buona serata a tutti, arrivederci. Le previsioni per domani, cielo in prevalenza nuvoloso su pianura e prealpi, da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso sulle Dolomiti, scarsa probabilità di precipitazioni, ventilazione nord-orientale, più significativa su costa e pianura limitrofa, nonché in quota sulle prealpi, per le temperature preverrà un contenuto aumento. Grazie per la visione!